La Giunta regionale aveva preannunciato l'odierna conferenza stampa come un punto di svolta. L'incompiuta Fano Grosseto con la sua Galleria della Guinza fa infatti un passo avanti deciso verso la canterizzazione di un progetto che abbandona l'iniziale idea del tracciato a due corsie per sposare la linea avallata dalla Regione Marche che porterà, in tempi ancora tutti da definire, ad una vera superstrada a quattro corsie che risponda alle carenze infrastrutturali di collegamento fra Marche, Umbria e Toscana con particolare riferimento al tracciato della provincia di Pesaro Urbino. Oggi si è raggiunto con la collaborazione tra Regioni, Ministero, ANAS e soprattutto tutta la filiera istituzionale un traguardo storico, cioè il riconoscimento nel prossimo accordo di programma non del progetto ma della realizzazione della seconda canna della Galleria della Guinza che dà una prospettiva a quel tratto della Fano Grosseto ma a quei territori in particolari molto positiva nel breve tempo. Un breve tempo che chiaramente trattandosi di un'opera molto importante presuppone comunque una progettazione che dura mesi e anni e un cantiere che potrà vedere la luce appunto fra qualche anno. Ma parliamo di un'opera economicamente molto rilevante e che rappresenta uno snodo cruciale per la realizzazione della Fano Grosseto perché questa opera da sola cuba qualche centinaio di milioni di investimento. Con la riapertura della prima galleria e la realizzazione della seconda Marche, Umbria e Toscana si collegano molto più velocemente. Poi chiaramente è un presupposto per vedere realizzata finalmente la Fano Grosseto. Abbiamo ottenuto la svolta proprio nel ragionamento di ANAS e del Ministero delle Infrastrutture. Prima l'arteria veniva progettata a due corsie non raddoppiabili. Oggi abbiamo ottenuto poco più di una settimana fa la progettazione della seconda canna della Guinza che è fondamentale per questo rapporto con l'Umbria e con la Toscana ma abbiamo ottenuto anche una progettazione che tecnicamente non si dice più C1, quindi una strada che ha delle caratteristiche geometriche di larghezza di 10,50 metri, ma andiamo a progettare una B o quindi una superstrada che poi verrà realizzata a stralci lungo il percorso a seconda ovviamente delle risorse disponibili perché l'investimento è rilevante. Ma le marche hanno ottenuto finalmente il riconoscimento sul quale negli ultimi decenni o almeno nell'ultimo decennio non si era lavorato di ottenere una vera superstrada che colleghi il mare Adriatico al mar Tirreno tra Fano e Grosseto.